Genitori e figli, agitare prima dell'uso, perché bisogna agitarli, un po' shakerarli questi genitori e questi figli? Sì, io penso che bisogna litigare nelle famiglie, bisogna discutere, se no non si va avanti, non si cresce, se c'è silenzio, se c'è quei silenzi tremendi che ci sono in certe famiglie a cena, dove non si sa di che cosa parlare, lì cova l'odio da parte dei figli nei confronti dei genitori, secondo me, alla fine sarebbe opportuno togliere i coltelli alla fine di quella cena, mentre invece se si discute, se si litiga, secondo me si cresce, bisogna discutere, litigate, litigate tra di voi. Senti, com'è nata l'idea di questo film? È nata perché sfortunatamente sono morti i miei genitori e quindi io volevo fare un omaggio a loro e nel fare un omaggio all'affetto, all'amore che io ho provato per loro, forse anche inconsapevolmente ho fatto uno spaccato di un tipo di famiglia italiana che ha dei problemi nel far crescere i propri figli, perché sono ostinatamente convinti che loro sono già cresciuti come genitori, mentre invece i genitori devono crescere sempre insieme ai figli, secondo me, altrimenti ci sono dei seri problemi nelle famiglie. Accanto a te hai i protagonisti, i giovani protagonisti, Emanuele Propizio, Chiara Passarelli e Andrea Facchinetti. Che rapporto avete voi con i vostri genitori? Sì, ora, prima di parlare devo dire, siccome sono abbastanza analfabeti loro, vorrei scusarmi con quello sottotitoliamo. Va bene? Va bene? Dai, dai, forza, dai. Io, RB Casting, sai che cos'è? Roberto Bigaradi. Casting. No, noi conosciamo Roberto, allora salutiamo Roberto Bigaradi. Casting. Ah, è casting, ha detto, è casting. Io fortunatamente ho un rapporto dei miei genitori molto bello, perché sono giovani, io con mia madre ho 17 anni di differenza, con mio padre ne ho 22 e quindi abbiamo un rapporto mamma, sorella, amica, papà, fratello, amico, quindi rappresenta un po' tutto quanto di una persona che deve avere, che ha bisogno di avere. E io mi fido molto di più comunque a dire le cose a mia madre e a mio padre che comunque andarle a dire a un mio amico. È questa la fortuna vera che io ho. Quindi sono molto contento, anche se io non sono un figlio molto tranquillo, glielo ho fatto passare un po'. Eh, tutti gli scipi che fai. Chiara invece che mi sembra più dolce, più tranquilla? Beh, io ho un buon rapporto con i miei genitori, con loro ovviamente litigo, ma comunque allo stesso tempo riesco a parlare con loro di magari dei problemi, però io riesco a parlare più con le amiche, delle cose più delicate, più intime. Ho la fortuna di avere delle amiche con cui posso veramente parlare, ma anche i miei genitori, con loro comunque c'è un dialogo. Facchinetti invece si litiga spesso a casa tua? Le mie sorelle e i miei genitori si litigano praticamente costantemente. Io paradossalmente ho il problema contrario, io non mi litigo con i miei genitori, io ascolto fin troppo, cioè sono un po' ero. Ho dovuto cercare un distacco perché ero un po' vittima di questi affetti enormi. Quindi grandissime frizioni non ne ho mai avute. Poi in casa mia c'è un dialogo abbastanza aperto, mia mamma fa il mestiere che fa, quindi non ha avuto tanto da ridire nella mia scelta di carriera. Eh, infatti volevo sapere... Mia mamma fa l'attrice, mia mamma è un'attrice e io... Che attrice? Dillo! Eh, vabbè, dito voi! Dillo! La madre di questo ragazzo è niente po' po' di meno che Ornella Musi. Eh, insomma, faccio vedere. Allora, quindi è tuo padre che reazione ha avuto quando hai deciso di fare l'attore? Guarda, mio papà ha sempre voluto che io cercassi un mio interesse. Io non ne avevo, ero classico ragazzo, ventenne, playstation fino alle 11 di sera, poi uscivo, poi dormo fino alle due, poi mi sveglio e non faccio niente. Questa era la mia vita ed era quello che ha fatto una vita assolutamente comodissima. Però no, però un papà che ha voluto farmi, diciamo, partire, fare il primo passo. In che direzione a lui non importava, per lui era importante che io mi muovesse. Una domanda a Veronesi sulla musica del film. Ci sono due musiche di Gianna Nannini. So che hai un rapporto, insomma, che dura da anni con Gianna. Sì, siamo amici da tanto tempo. Anche questa toscanità un po' ci unisce, un po' di campanilismo tra noi c'è. Poi lei beve il vino, io bevo il vino. A lei piace andare al mare, a me piace andare al sole. Quindi andiamo spesso insieme a prendere il sole, al mare. Insomma, diciamo che Gianna per me è, diciamo, quella amica che uno vorrebbe sempre avere. Dice, no? C'è la rock star che la vedi là sul palcoscenico che canta e dice, la mitizzi? E poi invece ce l'ho avuta a casa che mi ha detto, posso andare un attimo in bagno? È andata in bagno nel mio bagno, capito? Gianna Nannini, chissà che ha fatto. Che ha fatto? Niente, non ha fatto niente. Poi è tornata, poi ha mangiato i miei spaghetti. Insomma, mi piace questo rapporto con Gianna Nannini, perché poi gli do la chitarra, lei canta a casa mia, si mette a cantare le canzoni vecchie sue, anche quelle di altri. Insomma, mi piace. La voglio affittare, se è possibile poterla affittare per un periodo, tipo due anni. Affitto da Nannini. Quanto costo era affitta da Nannini per due anni? Tanto, non lo so. Ricordiamo agli amici di RB Casting l'appuntamento al cinema con genitori e figli. Genitori e figli, agitare bene prima dell'uso. Il 26 febbraio esce questo film, andatelo a vedere, genitori e figli insieme, perché quando uscirete dal cinema e vi guardirete negli occhi, qualche cosa ve la dovrete dire per forza. Ricordiamo anche gli altri del cast, gli altri attori. Questo lo dice lui. Vediamo se te li ricordi tutti. Velocemente, te lo metto io al microfono. Chi sono gli attori del film? Vai. Silvio Orlando, Luciano Letizietto, Michele Placido, Margherita Bui, Max Tortora, zitto, 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 Elena Sofia Ricci, Piera degli Esposti, poi Emanuele Propizio, Chiara Passarelli e Andrà Faghinetti. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Grazie. Grazie, ciao. Grazie.